L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo disegna e finanzia progetti e investimenti che in tutto il mondo portano crescita alle comunità e contrastano crisi umanitarie e ambientali. Lavoriamo per ridurre povertà e disuguaglianze, promuovere diritti umani e uguaglianza di genere, far sviluppare l'economia e sostenere pace e democrazia. Investire in uno sviluppo internazionale sostenibile è la chiave per crescere insieme ai CS, creatori di sviluppo. Grazie a tutti!